Amici di Raiuno, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul meteo e traffico. Oggi la viabilità è condizionata dal maltempo, infatti le previsioni del tempo comunicateci dell'aeronautica militare indicano locali precipitazioni sulla Liguria e sul Friuli Venezia Giulia con qualche nevicata, nuvolosità irregolare sul resto del nord, con un nuovo aumento delle nubi sul nord ovest dalla sera. Condizioni di instabilità sulle regioni tirreniche con piogge sparse più frequenti sull'Alta Toscana, Basilicata e Calabria. Proprio su queste regioni la protezione civile ha diramato uno stato di allerta meteo arancione su Campania, Basilicata e Calabria e allerta gialla su ben nove regioni, ma in questo momento sta piovendo su molti tratti stradali e quindi occasione questa per ricordarvi di non superare i 110 km orari alla guida. Sta nevicando in questo momento al traforo del Monte Bianco e vi informo che è chiuso in entrambe le direzioni, ma anche sulla 5 la Torino-Courmayeur e anche sulla strada stradale del Gran San Bernardo. Vediamo come si presenta la viabilità in questo momento, molto intensa qui, siamo sulla 4 allo svincolo di Cormano, come vedete flussi veicolari intensi in entrambe le direzioni proprio per i trasferimenti pendolari. Inizio nel comunicarvi che proprio non molto distante dall'area meneghina abbiamo un incidente sulla 1 che sta generando code al momento tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. In area ligure abbiamo una criticità sulla 12, ovvero la chiusura del nodo della 7 e vi informo che lo svincolo di Chiavari è chiuso sia in entrata che in uscita in modalità permanente. E poi è ancora chiusa la strada statale amalfitana per una frana tra Amalfi e Atrani e vi informo infine sulla Tirrena Inferiore che c'è una chiusura motivata da cantieri di lavoro tra Sapri e Acqua Fredda di Maratea. Mi avvio verso la conclusione informandovi che è stato indetto per oggi uno sciopero dalle 9 alle 17 del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e da Alessandra Canale l'augurio di una splendida giornata. Come sempre la linea Varrai 1, arrivederci.